Oh, che strano... Ehi! Ehi dai ragazzi! Ehi... Sam? Oddio! Chris, la scelta è tutta tua. Ehi! Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto! Ma che cazzo! Emily! Lasciami! Cazzo... 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aspetta, che c'è la buona notte? Mmm, non ci sta tornando. Salve, e grazie a tutti per essere voi. Stanotte faremo un piccolo esperimento. Ciao, ciao bambini. No, no, non funziona. Salve, pellegrini. Che cosa? Che cosa? Ah no, aspetta. Che cosa? No, non ci sta tornando. Che cosa? No, non ci sta tornando. Mike, che stai facendo? C'è un... Oh, Mike, grazie al cielo mi hai trovato. Ok. Tutto ok, stai bene. Non capisco come sei arrivato qui. Come hai fatto a trovarmi? C'è uno psicopatico qui in montagna. Sì, l'ho notato. Vive in una specie di rete di gallerie. Io sono stato là sotto, ho trovato una grata e ti ho visto. Ascolta, questo tizio di cui parli, lui mi ha assalito. Mi ha mostrato dei filmati. In uno si vedeva Josh che veniva ucciso. Veniva squartato da questa cazzo di enorme sega circolare. Gesù Cristo. Ed o che viva qui sotto, e chiunque sia, è ossessionato da Anna e Beth. Assurdo. Ma cosa cazzo sta succedendo qui? C'è una porta. Non si apre. Si apre dalla tua parte. Non si apre. 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 Cazzo, sei orribile Felice di vederti Che stai facendo? Devo dire che la sugamano non è l'ideale Quando si affrontano dei pazzi assassini Ti dispiace, Mike? Oh Giusto, scusa Che mio bello Ok, fatto Finiamola qui Così sia Cos'è stato? Era un piatto No, 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 vattene via A salve Oh, Chris Oh, Chris, 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 Chris Ma che cazzo? Avrai sentito parlare dei colpi a salve? Sul serio? Boom Oh, questo è vero Oddio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Che culo Bene Bene No Merda 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 Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Tanti saluti a 600 dollari Fantastico Questo top mi stava benissimo Oh mio Dio Bene Dove le baño nel lago Adesso si ragiona Oh mio Dio Oh mio Dio Sì 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 Vediamo lo che c'è qua Ah, vabbè, lo possiamo inizia No, inizia no Però mi serve comunque quelle Il faiorello Ma secondo me è semplicemente consapevole a galleria. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Come faccio partire quest'affare? 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 No! Come faccio partire quest'affare? Come faccio partire quest'affare? Come faccio partire quest'affare? Come faccio partire quest'affare? Ah, strano. Molto strano. Come faccio partire quest'affare? 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 essa che fa a ch infectare quest'affare? Unami mati ina ma ca ela Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. è fuori di testa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amori burrascosi. Abbiamo... abbiamo il sangue. Non basteranno tutti i computer della Gina per tenere conto delle visualizzazioni, ragazzi. Ma cosa stai dicendo, testa di cazzo? Jessica è morta! Cosa? Mi hai sentito? Jessica è morta. E tu la pagherai, strosso! Ragazzi! Ragazzi, andiamo! Seriamente, questa è una pazzia, no? Daci! Perché l'hai colpita? Perché cazzo dovevi colpirla? Ma di che stai parlando? Hai picchiato Ashley, pezzo di merda! Mi sono infuriato. Non picchi una donna! Non lo fai! Amico, amico, Chris, fratello... Non sono tuo fratello. Dove andiamo? Dove mi state portando? Ti rinchiudiamo, fratello. Cosa? Così non farai altre cazzate prima che arrivi la polizia. Ma dai! Non ho fatto niente! Ma sei serio, fratello? Sei un assassino, ecco cosa sei! Non sono stato io! Michael, ti prego, ascoltami, dai! Io non ho fatto del male a Jessica! Sai una cosa? Stai zitto! Chris, andiamo, capo. Siamo amici. Zitto! Sta zitto! Oh, bene. Fai pure lo stronzo! Vedete solo quello che volete vedere. Siete... Chiudi la bocca! Cerchi! Siete... Cazzo! Non è colpa mia se non sapete stare agli scherzi. Oh, ti ho... ti ho fatto male? Per caso ti sei... fatto la buona? Guarda, mi dispiace. Mi dispiace così tanto! Basta! Dai, piantala! Michael, mi dispiace, amico. Non puoi nemmeno immaginare quanto mi dispiace che sia successo qualcosa a Jessica, ma giuro! Giuro che non ho la minima idea di cosa le sia successo! Josh, sì, serio! Credi veramente che possiamo fidarci di te anche per un secondo dopo tutta la merda che ci hai tirato addosso? Ok, possiamo tornare, amici. Cazzo! Basta con le strozzate! Non va! No! Non è così! Non è così che dovrebbe venire! Siete solo un branco di bulletti! Non potete lasciarmi qui in questo modo, ragazzi! Anche... Anche perché comunque non avrete mai le palle di fare niente! Ti prego! Ti prego! Davvero? Tu devi smetterla di dire cazzate! Va bene! Io... Già... Io... Io voglio... Io voglio dire... Non... Non capisco cosa tu intenda, visto che... Non ho nulla di cui mentirmi! Oh mio Dio... Oh mio Dio... Ok, adesso mi legate, ok? Stai fermo, amico. Giusto, giusto, giusto. Ok? Non puoi legarmi se mi agito troppo. Già, amico! Lasciami un po' di spazio per dimenarmi! Che devo fare per zittirsi? Oh, non così stretto! Ok? Non così stretto. Non riesco a... Non dirmi di di plastica a questo sesso. Di che cosa cazzo sta parlando? Cazzo, come ho messo? Ha mai detto cazzate del genere? No, 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 no. Non l'ho mai visto. Sono fatti o rimbossati! Semmi giocare. Stupidi... Sono scimi e più scimi. Chris... Esce... Chris è stronzo. Esce tonta, tonta. Cosa, scusa, che cazzo dici? Ho detto che sei stupido, stupido! Ma che cos'hai che non va? Oh, Ashley. Giuro che ti sanno, ti lascerò morire. Oh, non ho mai usato neppure nei miei sogni sperare di piacerti. Smettila. Sai che rumore è questo? È il rumore che fai tu quando non baci Ashley cacassotto! Basta! Sì, infatti. Tanto vale che Ashley vada a letto con Mike. Cioè, almeno lui ha dimostrato di saper combinare qualcosa, giusto? Lui la farebbe divertire! Sei davvero patetico, Cristo! Mi spacco la testa! Non dargli ascolto! È inutile! Ehi, Mike. Mike, 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 Mike. Mike? Cosa? Cosa è successo con Jess, Mike? Lo sai bene. No? No, io... Non... Io ho un problema, Mike. Io non ricordo di aver ucciso Jess. Gesù Cristo! Ma voglio dire, credo che... Che mi ricorderei di averlo fatto, no? Era così morbida... Che il punto probabilmente aveva un corpo da urlo. Tappa quella cazzo di bocca! Perché? Credevi che l'avrei usata? Eh... Non lo so. Dai, su, Chris, mi conosci come le tue tasche! Sì, Chris, conosci molto bene anche me! Ah, bene. Beh, la prossima volta avvisami, ok? Oh, che carini! Non riescono neanche a giocare a poliziotto buono, poliziotto cattivo! Lasciate affare ai professionisti! Tu torna alla baita. Vedi se stanno tutti bene. Io starò qui con questo matto fino a domattina. Oh, dormiamo insieme. Ordiniamo una pizza. Sicuro di stare bene? Eh, si chiederanno se qui stiamo a posto. Hai ragione. A domani. Charles! Charles! Mi è piaciuto sentirvi terrorizzati. Tutte emozioni provate dalle mie sorelle un anno fa. Solo che loro non hanno potuto riderci sopra. No! No, 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 no! Loro sono morte! Jessica è morta! Cosa? Mi hai sentito? Jessica è morta. E tu la pagherai, strusso! Cos'è successo con Jess, Mike? Io non ricordo di aver ucciso Jess. Jess, Cristo! Oddio! Oddio! Oddio, Matt! Oddio, Matt! Oddio! Cos'è questi? E fattene da qui! Subito! Cosa? Oh merda! Oh merda! Oh cazzo! Ok, ok, vengamo. Bene.